Provi ad Alessandria, via Galimberti, angolo via Sclavo. Un cordiale buongiorno a quanti seguono questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cava di Castello Armellino tra i comuni di Sala e Tortona posta sotto sequestro dalla procura della Repubblica di Alessandria che ha agito su richiesta dell'ARPA dopo alcuni sondaggi effettuati nella zona che ha potuto verificare come nell'area la profondità di 4-5 metri si trovano amianto, tubi e materiali non ancora identificati, tra l'altro alcuni bidoli. La cava in questione era destinata fino a poco tempo fa al deposito di smarino e schiumogili per i lavori del terzo valico e da poco era stata improvvisamente esclusa dal piano cave. La situazione di inquinamento è venuta alla luce grazie alla richiesta fatta dal sindaco di Tortona Gianluca Bardone e dall'assessore Davide Parra. Sono tuttora in corso indagini, ma vediamo il servizio. Il tortonese, come le province campane di Napoli e Caserta, l'appellativo terra dei fuochi non fa differenze tra nord e sud Italia e offende prima di tutto l'ambiente e la salute dei cittadini. I veleni questa volta sono stati scoperti in una ex cava tra i comuni di Tortona e di Sale. Lo spazio in questione, posto sotto sequestro dalla procura della Repubblica di Alessandria, si trova nella zona di Cascina Castello Armellino ed era destinato, fino a pochi mesi fa, ad accogliere 1,3 milioni di metri cubi di smarino arricchito di schiumogeni provenienti dai cantieri del Terzo Valico. Ora le indagini dell'ARPA, l'Agenzia regionale per l'ambiente, hanno dato il risponso ufficiale. In quel campo, ad oggi coltivato a grano, si trovano interrati a una profondità di 4-5 metri fusti, amianto, inerti. È stata l'amministrazione comunale di Tortona, guidata dal sindaco Gianluca Bardone, a sollecitare i rilevamenti. A breve si verrà conoscenza del livello e dell'estensione dell'inquinamento provocato da questi materiali. Era stato un gruppo di cittadini, a suo tempo, a segnalare al Comune la situazione sospetta, soprattutto dopo la decisione del Cociv, l'organo che si occupa della realizzazione del Terzo Valico, di togliere quel terreno dal cosiddetto piano cave. Inizialmente era stato invece individuato come deposito per i lavori della grande opera ferroviaria. Nell'autunno scorso, intanto, l'amministrazione comunale tortonese aveva chiesto di verificare tutti i siti del piano cave dell'alta capacità. Non è stato riscontrato alcun rifiuto alla Montemerla, dove però il Comune è contrario all'utilizzo per il rischio di esondazioni del torrente grue, mentre devono ancora essere visionate le cave di Castellotto 1, Castellotto 2 e Castello Bollo, vicino al casello della A7. Si è aperto uno spiraglio per gli autotrasportatori dell'Ilva, infatti è stato siglato un accordo per rinnovare il contratto di solidarietà, durata un anno. Ma sentiamo i particolari nel servizio di Enrico Maria. Un'intesa è stata raggiunta nella serata di ieri presso l'Ilva con i commissari straordinari, che sono stati incaricati di seguire le vicende legate alla situazione Ilva, che vede coinvolti molti operatori del trasporto. E questa è la notizia pubblicata questa mattina sull'home page del sito della Conftrasporto. L'accordo, prosegue il sito, è stato sottoscritto da un'altra seanita e sarà oggi sottoposta a verifica nelle diverse realtà. In giornata si terrà anche la riunione dedicata ai problemi dell'area di Taranto. Quanto raggiunto, prosegue la pagina tematica sul web, si va ad aggiungere alle misure contenute nel decreto legge sull'Ilva. A giudizio del sito, quanto ottenuto, è soddisfacente e la speranza è, si afferma letteralmente, che non sopravvengano valutazioni particolari, a mettere in discussione i contenuti di un'intesa faticosamente raggiunta. Lo spazio web rimarca ancora letteralmente, questa volta in grassetto, che la mancata accettazione metterebbe a rischio l'intero settore e molte famiglie, il che, si prosegue, sarebbe veramente insostenibile. Nei giorni scorsi, sempre sul sito di Conftrasporto, sempre in merito all'avvertenza Ilva, si informava che a scioglimento di alcuni dubbi che erano sorti in merito, il Ministero del dello Sviluppo Economico aveva definitivamente chiarito che i crediti vantati degli autotrasportatori nei confronti dell'Ilva rientravano nella categoria dei crediti prededucibili. Sullo spazio web, a tal proposito, era stato riportato il testo del comunicato ministeriale che spiegava come a chiarimento dei dubbi interpretativi circolati a proposito del maxiemendamento al decreto legge sull'Ilva approvato dal Senato, il Ministero dello Sviluppo Economico precisava che nella categoria dei crediti prededucibili rientravano quelle di imprese che hanno contribuito all'attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, ivi comprese le imprese di autotrasporto che consentono la manutenzione di materie prime, merci e prodotti finiti e la funzionalità degli impianti produttivi. E' stata definitivamente chiusa l'inchiesta sulla morte di Luigi Tenco, il noto cantautore nato a Cassine, in provincia di Alessandria. Il procuratore di Imperia, per i procuratori di Imperia non ci sono elementi nuovi per ipotizzare un omicidio del cantante, trovato morto nella sua camera d'albergo durante i giorni del festival di Sanremo del 67, con una frase, i morti vanno lasciati in pace, il procuratore di Imperia, Giuseppe Geremia fa intendere con questo che per la procura di Imperia la richiesta sulla morte del cantautore genovese Luigi Tenco è definitivamente chiusa, in realtà non è mai stata aperta perché l'esposto presentato un anno fa dal giornalista forense Pasquale Aragone, tra l'altro autore di un libro sull'argomento, non ha portato elementi di novità rispetto a quanto raccolto negli anni seguendo le varie piste investigative, resta dunque confermata l'ipotesi del suicidio. Michele Boninconti resta in carcere, il tribunale del riesame ha infatti nuovamente respinto la richiesta di scarcerazione, intanto l'uomo prosegue nella sua vita in carcere, chi lo è andato a trovare ha dichiarato di averlo trovato sereno ma anche un leone in gabbia, il servizio del nostro inviato. Che ti procedo? Stralciata l'aggravante della premeditazione, Michele Boninconti resta comunque in carcere. Il tribunale del riesame ha infatti respinto per la seconda volta la richiesta di scarcerazione avanzata dai legali dell'uomo in carcere dal 29 gennaio con l'accusa di aver ucciso la moglie Elena Ceste e di averne occultato il cadavere. Gli avvocati con i quali il vigile del fuoco sta collaborando ora attendono le motivazioni per quest'ennesimo rifiuto di libertà per il loro assistito che a quarto d'asti continua la sua vita da detenuto dove pare essere ben voluto dai suoi compagni di cella e da tutti i carcerati che hanno a che fare con lui. Lo spaccato di vita di Boninconti arriva da Sandro Caruso, suo amico di Costigliole, anche egli sposato con quattro bambini. I due hanno stretto un forte legame tanto che Caruso l'altro giorno lo è andato a trovare a quarto. È un leone in gabbia, ha dichiarato alla stampa, prega, professa la propria innocenza e vorrebbe vedere i figli ai quali voleva addirittura che arrivassero dei biscotti come segno di amore di un padre a cui è stato tolto tutto. Caruso ha anche aperto un gruppo su Facebook che ha chiamato Michele Boninconti uno di noi attraverso il quale sta cercando di trovare adesioni per dimostrare vicinanza a un uomo che a suo dire non si è macchiato di alcuna colpa. Ma sono diversi i gruppi e le pagine aperte su Facebook, alcune a favore come Michele Boninconti innocente fino a prova contraria e altre che invece invocano la sua piena responsabilità nella morte della ceste. In carcere l'altro giorno si sono recati anche i fratelli di Michele, lo hanno trovato tranquillo in attesa che venga fatta la verità ma soprattutto che il tribunale dia il suo benestare per farlo incontrare con i quattro figli affidati ai nonni materni con il veto assoluto di potersi avvicinare al padre. Nessun è responsabile della morte di un pensionato novese di 72 anni suicidato si il 31 gennaio 2010 nella casa di riposo di Basaluzzo che lo ospitava da pochi giorni. Il giudice unico, chiamato a pronunciarsi su cinque medici, accusati di concorsi in omicidio colposo, li ha assolti perché il fatto non sussiste. Sono Pierangela Massacane e Agnese Vilera, medici del pronto soccorso dell'ospedale di Novi, gli psichiatri Paola Rossini e Fabio Foti e il medico curante Luciano Arnera. A dire del PM, Rossini, Vilera e Foti dovevano essere condannati a un anno ciascuno. Arnera e Massacane assolti. L'uomo, depresso e in una fase particolare critica, era stato accompagnato all'ospedale di Novi, visitato, valutato, dimesso e inviato alla casa di riposo con un piano terapeutico da seguire. Dopo pochi giorni si uccise impiccandosi. Per l'accusa i cinque medici dovevano impedirlo. Per la difesa, Goglino, Monti, Rossi e Baggio. Il suicidio era imprevedibile. L'imputato non si trova ed il processo è stato sospeso a suo carico. Forse non sarà mai giudicato. Sentiamo il perché nel servizio che è stato curato da Emma Camagna su questo processo ad un imputato che non si trova più e come dicevo è stato sospeso. Forse questo processo non si farà mai. Vediamo se vi diamo a Camagna. Un imputato irreperibile. Se non viene rintracciato evita il processo. Sarà pur assurdo, ma è così in base a una legge che elimina la contumacia. Il tribunale doveva giudicare il croato Allen Bunick, 45 anni, accusato di aver rapinato la gioielleria Gioletta di Francesco Dimitri via Milano, concessionaria Rolex, bottino 341 milioni. Il colpo in pieno giorno fu messo a segno il 3 marzo 1999. Ad agire furono in due, uno mai identificato. In negozio c'erano due commesse che vissero attimi di terrore. Vennero chiusi in bagno, ammanettate la bocca coperta da nastro adesivo. I banditi arraffarono orologi, denari e gioielli, alcuni lasciati da clienti per riparazioni e fuggirono. Il colpo finì tra i casi insoluti, ma un bandito lasciò un'impronta trasmessa alla banca dati della polizia scientifica di Torino, dove sarebbe rimasta per sempre se l'uomo nel 2008 non ne avesse compiuto un altro a Milano e se gli investigatori non avessero fatto un compronto. L'impronta era del croato, arrestato, scarcerato dopo sei mesi e scomparso. Ora il Tribunale ha disposto per lecce che venga cercato e ha sospeso il processo fino al 18 novembre. Se anche in quella data non si trova, si faranno altre ricerche. E così via via di seguito. Fino a quando? I numerosi studenti delle scuole medie della provincia dell'Alessandria hanno potuto visitare il track del camion della Polizia di Stato che ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per educare i ragazzi sui rischi di internet. Vediamo il servizio. Oltre 300 studenti delle scuole medie della provincia dell'Alessandria hanno visitato il track della Polizia di Stato che ha fatto tappa in piazza Garibaldi dell'Alessandria per lanciare una campagna di sensibilizzazione per educare i ragazzi sui rischi internet. L'iniziativa partita dalla Capitale il 13 gennaio scorso continua il suo percorso educativo interessando ben altre 54 tappe. In un contesto sociale nel quale è ormai quotidiano l'uso di internet sia per motivi di lavoro, di studio ma anche di svago nasce l'esigenza di realizzare un progetto al passo con i tempi, onde evitare di cadere nelle trappole della rete e soprattutto al fine di prevenire tragici episodi di suicidi come è stato più volte annunciato e soprattutto ponendo particolare attenzione anche ai temi dell'adescamento online e della sicurezza della privacy. Gli operatori della Polizia Postale attraverso un track di 18 metri allestito con un'aula didattica multimediale con postazione internet hanno illustrato dalle prime ore del mattino ai ragazzi delle classi terze delle scuole medie accompagnati dai spettivi insegnanti l'utilizzo sicuro, consapevole e responsabile e critico della rete internet. Alla manifestazione fra l'altro sponsorizzata dalla fondazione Cassa di risparmio di Alessandria erano presenti le massime autorità delle forze dell'ordine, magistrati, insegnanti e genitori. Il questore di Alessandria Mario della Cioppa. Internet voi sapete benissimo che è uno strumento che è utilizzato soprattutto dai ragazzi e quindi i ragazzi devono essere messi in condizioni di capire le potenzialità di internet, l'utilità ma anche i pericoli che possono essere celati dietro questo strumento importantissimo tecnologico. Dobbiamo solo saperlo utilizzare, avere la coscienza e la conoscenza per utilizzarlo al meglio. Testimonia dell'iniziativa lanciata dal Ministero dell'Interno, il dattore Alessandrino Massimo Poggio. Trovo sia un'iniziativa importante perché in tutto questo mare di internet dove tutto apparentemente è possibile manca un'educazione secondo me, quindi è un passaggio che in qualche modo per qualche motivo è stato saltato e quindi un'iniziativa di questo tipo rivolta a un pubblico delle scuole, di adolescenti, credo sia proprio fondamentale per iniziare un percorso di educazione all'uso di questa risorsa che è internet, che è meravigliosa, con delle potenzialità incredibili ma come tutte le cose straordinarie nasconde dei pericoli. La violenza resta qualcosa di difficile da cui liberarsi e può passare molto tempo prima che una donna decida di chiedere aiuto. Ad Alessandria c'è un centro, un centro Medea On Loose che ha sede in via Palermo che fino ad adesso ha aiutato oltre 700 donne, il servizio di Alessandria della C. È iniziato da poco il sesto anno di attività del centro antiviolenza Medea On Loose di Alessandria. Alle spalle un bilancio importante riferito al 2014. L'associazione è nata da un gruppo ristretto di donne, tra loro colleghe ma anche amiche, con in comune una lunga esperienza di lavoro e interesse nel campo dell'educazione e del sociale. Esse hanno deciso di contrastare e rimuovere ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale, economica e di stalking contro le donne all'interno e fuori dalla famiglia. I numeri. Nel 2014, 126 esponenti del gentil sesso hanno contattato il centro per chiedere sostegno. Il dato è inferiore a quello del 2013, 155 casi, ma dovuto probabilmente alla chiusura del centro per due mesi e mezzo in seguito ai lavori della nuova sede. Le donne in maggiore sofferenza sono quelle tra i 35 e i 44 anni, siamo sul 33,7%, con una percentuale quasi raddoppiata rispetto ai dati del 2013. Segue la fascia di età tra i 45 e i 54 anni, 32,6%. La maggioranza di queste ha un buon grado di istruzione e un'occupazione. Il 67% di loro che ha contattato il centro nel 2014 è di nazionalità italiana. Seguono donne nei paesi dell'est Europa, dell'Africa del Nord e dell'America Latina. Quasi sempre l'autore della violenza denunciata è il compagno di vita o un ex o un altro familiare, 86%. Solo nel 14% dei casi il maltrattante è estraneo alla cerchia familiare. Nel 55% dei casi poi accolti si tratta di violenza fisica, spesso accompagnata da altre forme, in primis quella psicologica. Seguono stalking e violenza economica. Tranne il caso del 2012, dove il 40% delle donne che aveva contattato il centro non aveva mai parlato con nessuno della propria situazione, capita sempre più spesso che le donne chiedano aiuto a qualche soggetto prima di contattare poi il centro antiviolenza. Questo nel 2014 è accaduto nell'84% dei casi ed è un segnale importante che deve incoraggiare la collaborazione tra i servizi del territorio. Cambiamo argomento. In occasione della presentazione del nuovo portale turistico Monferrato Expo 2015, anche Ovada prepara un pacchetto turistico puntando sul vino, sui castelli e sulla buona cucina. Servizio di Bruno Mattana. In vista di Expo 2015, presso Palazzo Monferrato di Alessandria è stato presentato un nuovo portale turistico, Monferrato Expo 2015, realizzato in collaborazione fra Alexala, Camera di Commercio e i sette comuni del centro zona della provincia di Alessandria, oltre al comune e alla provincia di Asti. Un portale molto utile per promuovere eventi e offerte turistiche del territorio. Anche Ovada sta preparando un pacchetto turistico per i molti che, ricandosi a Milano, si prevede transitino anche sul territorio ovadese, che punta naturalmente sul vino, sui castelli e sulla buona cucina. Un grosso impegno per il comune di Ovada, di cui ci parla il vice sindaco e assessore dell'attività economiche, Giacomo Pastorino. L'ovadese ha aderito fin da subito, non solo con l'adesione formale del comune centro zona, del nostro comune, ma con una partecipazione attiva di praticamente tutti gli altri comuni. Abbiamo fatto alcune riunioni, ci siamo tenuti in contatto e abbiamo costruito, e direi stiamo costruendo perché il lavoro sta procedendo, diciamo, è in evoluzione. Abbiamo costruito un pacchetto di iniziative un pochino più, che riteniamo un pochino più rilevanti e quindi da pubblicizzare sul portale Monferrato Expo, che si affiancheranno al consueto calendario di tutte le iniziative e devo riconoscere e confermare che il nostro territorio è un territorio molto ricco di iniziative di vario genere, che verranno come di consueto pubblicizzate sul sito dello IAT. A questo proposito dico che proprio in questi giorni anche il sito dello IAT cambierà un pochino faccia, si rinnova. Nel sito per la prima volta ci sarà un motore di ricerca approfondito e appropriato, sia per quanto riguarda le strutture ricettive della zona, sia per quanto riguarda le cantine visitabili o comunque le cantine vitivinicole del nostro territorio, frutto anche del lavoro di un progetto che si conclude proprio oggi, un progetto di pubblica utilità che ha visto l'impegno tramite la cooperativa Marcondiro di due persone per sei mesi impegnate a censire in maniera puntuale e sul posto, quindi proprio con interviste dirette agli interessati, tutte le strutture, tutta l'offerta turistica e anche direi enologica del nostro territorio. Bene, siamo alla fine di questa prima edizione del nostro telegiornale che vi ricordo che subito dopo la sigla di chiusura andrà in onda la pagina sportiva. Oggi parleremo della 55esima edizione dei campionati universitari di Open di sci alpino in corso a Bardonecchia. Subito dopo sentiremo come sarà il tempo nelle prossime ore e le notizie utili. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.